Aldo, girovago dei treni, oggi 3 giugno ho superato la mia regione, la mia Lombardia e guardate esattamente dove io mi trovo tuttora. Eccola di fronte, il nome, ingradisco per determinare la verità. Sono qui in questa bella stazione di Arona che rispecchia sempre la mia personalità perché si affaccia al lago, esattamente il lago maggiore. Ieri ero al lago maggiore ma da un'altra parte di questa sponda del lago maggiore, era esattamente a Laveno e oggi mi trovo invece sempre sul lago maggiore ma ad Arona. Devo dire che qui è bello, bello, posso andare a vedere anche le tre isole ma non importa, l'importante è viaggiare e capire dove sono, che ho oltrepassato la mia regione, la Lombardia mi trovo esattamente in Piemonte e oggi il 3 giugno l'apertura a tutte le regioni, va che belli quei treni, gli scambi ferroviari, mi trovo esattamente alla stazione di Arona. Il Girovago cambia anche regione, Aldo. E cosa ho da dire? Più che entusiasmo, piacere di vivere, di percorrere la vitalità della mia stessa vita che mi porta a fare tanti viaggi. Domani, anche se c'è brutto tempo, io parto, io parto. Anche se ci sono 18-20 gradi, io parto. L'importante è vivere minuto per minuto l'intensità di una vita che può dare un senso alla mia esistenza. Aldo, ad Arona.